Il questore di Salerno ha emesso un daspo di 5 anni a carico di un calciatore dilettante che domenica scorsa durante l'incontro di calcio valevole per il campionato di seconda categoria fra Folgore Acquavella e Athletic Torchiara disputatosi a Stella Cilento ha colpito con una testata il ventenne arbitro della gara. L'episodio è avvenuto negli ultimi minuti dell'incontro dopo che il direttore di gara ha concesso un calcio di punizione alla squadra ospite. Una decisione fortemente contestata dai calciatori della squadra locale che hanno attorniato l'arbitro contestandolo platealmente. In tale frangente il 34enne calciatore ha sferrato una testata all'arbitro che ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in 10 giorni. In seguito a tale episodio la partita è stata sospesa ed il calciatore denunciato dai carabinieri della locale stazione.